Un grande Ascoli ha liquidato con un netto e meritato, 3-0 lo Spezia, primo posto in classifica, insomma che sensazioni prova? Ho visto dall'inizio del campionato, qui tutte le partite, essendo abbonato, comunque ho visto che l'Ascoli quest'anno è una squadra molto forte, molto compatta, con un allenatore che sta facendo anche le scelte giuste, facendo anche dei cambi da una partita e l'altra quando sono ravvicinate e sfruttando al massimo il potenziale della squadra che tra l'altro è dotata di un grande attacco, con quattro attaccanti di grandissimo livello e due trequartisti come Ninkovic e Ciaia che tutte e due sono in grado di fare la differenza. In vista di Cremona che partita si aspetta? Allora, la Cremonese fa parte del gruppo delle squadre, della ristretta cerchia, le squadre che puntano a fare un campionato di vertice, tant'è che ha due attaccanti di primo livello per la Serie B, forse anche un lusso, soprattutto Ceravolo e Ciofani. È una partita difficile, però loro hanno dimostrato a Cremonese che finora non hanno trovato la quadra, tant'è che non sono nelle primissime posizioni. Penso che l'Ascoli però, soprattutto giocando in contropiede, come abbiamo fatto anche oggi a tratti, sfruttando quindi la velocità e le qualità sui spazi, la precisione di Dacruz e con le imbeccate di Ninkovic, ma qualche volta anche di Piccinocchi, possiamo fare il risultato senza comunque farci prendere dalla frenesia di dover vincere per forza tutte le partite, anche se uno ci deve provare. Grazie a tutti.